Importante oggi la delibera approvata in Consiglio Comunale su ABC, una vittoria del Comune di Napoli, una vittoria dell'azienda speciale di acqua pubblica, una vittoria della città. Napoli, a distanza di ormai quasi dieci anni dal referendum sull'acqua pubblica, è stata la prima ed è l'unica ancora città d'Italia che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica, acqua bene comune, acqua bene primario e da oggi ancora più solida, dimostrazione che pubblico può significare trasparenza, pubblico può significare risparmio, pubblico può significare efficienza e soprattutto con l'acqua pubblico può significare uguaglianza. Una bella giornata di Napoli per l'acqua per i beni comuni.